Allora, un altro modo per pensare a un filo che non scivola su un cilindro come una macchina o a una ruota che rotola senza strisciare è una cosa di questo tipo dove avete una ruota tentata e c'è una catena, ovviamente io ho disegnato un po' a mano libera ma dovete immaginare tipo la ruota tentata di una bicicletta o di una catena che è fatta passare per una caduca che ha la ruota tentata, quindi vedete che nella misura in cui la catena si muove farà girare la ruota dalla caduca oppure qua se per caso la catena è ferma, è bloccata la catena, avete la ruota che rotola ma potreste avere una ruota che è bloccata l'asse e tirate la catena e la ruota gira, no? Cioè chi è in moto qua? La catena che fa girare la ruota gettata attorno a un'asse che ferma o è la catena che ferma e la ruota gira, avanza, no? Come la ruota di un'automobile quindi secondo me sono due modi, è un modo per pensare alla macchina di output o una ruota che rotola strisciare che credo che sia utile, almeno è stata utile per me, fate quello che volete Allora voglio parlare della ruota che rotola stessa strisciare, ovviamente qual'è l'analogia tra questi? è la stessa cosa, no? Cioè se voi tirate la catena e la tendete è la stessa situazione, non c'è mai sotto sopra, quindi per quello è la stessa matematica, perché è lo stesso problema, no? è il moto relativo tra la catena o il filo e la ruota o la caducola, nel momento in cui se uno si muove e fa girare l'altro, di quanto si sposta la catena farà girare un certo angolo, quale angolo? Dipende dal raggio della caducola, eccetera eccetera Io voglio parlare della ruota che rotola su una strada, di nuovo voglio fare una ruota ideale quindi cos'è per me una ruota ideale? La ruota ideale è una ruota indeformabile, rigido, che si appoggia su una strada indeformabile e quindi il punto di contatto è un punto solo e quel punto, il punto di contatto man mano che la ruota avanza, il punto di contatto continuamente è uno nuovo, ma il punto di contatto è per un istante fermo, quindi non so se lo sapete, l'altro gruppo non lo sapeva, cosa mi stupisce sempre più se questa è la vostra ruota e prendete della vernice e dipingete il punto di contatto dipingete la ruota nella corrispondenza della ruota del punto di contatto poi fate avanzare la ruota dopo una breve accelerazione fatela arrivare a una velocità costante questo punto luminoso che moto fa? Fa una curva che si chiama cicloide, l'avete mai sentito parlare della cicloide? fa una curva, io se lo disegno un po' liberamente, trovate in internet, sui libri c'è sicuramente disegni o fotografie, magari sono foto scatti ripetuti, esposizione ripetuta quindi vedete una foto in cui il punto luminoso fa un moto e il moto è più o meno questo quindi parte così, va su, una curva cicloide e una cosa del genere ovviamente questo è uguale al diametro, lo disegniamo liberamente quindi il punto va su, arriva al massimo, torna giù e guardate per un attimo lui è fermo, vedete che non si muove? non va avanti e indietro, poi si stacca, va su, quindi potete prendere degli adesivi o dei carta raffreggente e metterli sulle vostre ruote in bicicletta e vedere questo cicloide, molto divertente va bene, ah a proposito, l'ho detto anche ad un altro gruppo che lo dica anche voi, non mi ricordo se sul mio sito ho fatto questi link però vi dico adesso, c'è un sito molto 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 utile per un studente universitario è un sito americano, attenzione, il materiale è scritto in inglese ma è un inglese molto semplice perché è un sito molto riassuntivo quindi ogni volta che voi mi muovete all'interno del sito ci sono piccole schede con disegni molto efficaci e con un testo molto breve, non prolisso che dice in maniera riassuntiva quello che serve sapere e il bello del sito è che vi fa capire anche come io intendo che dovreste studiare che un concetto deve farvi venire in mente un concetto parente e quindi voi da un'idea potreste passare a quello che in qualche modo gli è imparentato e una volta qua potete magari venire un'altra idea e un'altra idea e un'altra idea e un'altra idea vi muovete come in una rete dove i concetti sono legati tra di loro come appunto la rete internet, ci sono dei concetti chiave che fanno da hub e da questi concetti chiavi magari avete tante applicazioni però queste applicazioni sono connesse tra di loro anche magari in maniera indiretta non solo tramite la hub quindi il sito è organizzato in questo modo che voi arrivate e c'è questa che è chiamata una mappa concettuale una specie di rete delle idee e voi cliccate sull'idea, sul concetto che volete conoscere e vi porta lì ma vi da anche i link incrociati e il primo sito che è venuto fuori ha un nome strano in inglese è hyper physics andateci, è estremamente utile poi il problema dell'inglese lo dovete affrontare non fuggite ora, se siete al più buon all'università cominciate ad affrontare il problema dell'inglese però in inglese è semplice proprio perchè sono piccole schede non sono pagine, 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 pagine ma proprio una schermata e tra l'altro questi stessi signori hanno fatto, dopo il gran successo hanno fatto un altro sito che è utile perchè ovviamente voi avete il problema ipermatematica dove trovate matrici, algebra lineare, derivate, derivate parziali, equazioni differenziali trovate tutto quello con cui state lottando adesso con le lezioni frontali dei colleghi di matematica andate su questi siti, andateci, correte a casa e fatelo Familiarizzatevi con questo sito, anche se l'inglese per voi è una cosa che mi spaventa giratese questo sito, ovviamente in questo corso usate questo c'è la meccanica, c'è la cinematica, la dinamica, la dinamica dei punti, la dinamica dei corpi glici, la dinamica dei sistemi c'è l'elettricità, il magnetismo, poi ci sono argomenti che non sono ovviamente nel programma tipo fisica nucleare, astronomia, fisica dello stato solido quindi è un sito che potrebbe esservi utile della vita, sicuramente lo è in questo corso se vi muovete nel contesto della meccanica e dell'elettromagnetismo andateci, se non lo fate siete dei coglioni non sto scherzando, se non andate stasera a guardare questi siti siete dei coglioni vi disprezzo, e non sto scherzando anche io della vita sono stato coglione tante volte, è una condizione umana ma dovete riconoscere di essere stato e eccetera per cercare di parlare di meglio Allora, io voglio discutere il problema di una ruota che rotola senza strisciare sul tavolo, voglio fare due esercizi e voglio fare il disegno, ovviamente farò una ruota però voglio proporre il problema simultaneamente queste due sono ruote ideali in una, al centro di massa, immaginate il centro di massa sia nel centro geometrico quindi è una ruota in qualche modo simmetrico può essere una ruota piena, una ruota cava voi applicate una forza in questo esercizio applicate una forza al centro di massa eccola qua, è una forza F0 una forza F0 la misurate con un dinamomero state applicando 10 N o 100 N ovviamente la ruota avrà una certa massa avrà un certo raggio e avrà un numero che caratterizza come la massa è distribuita quindi K, ok? e F0 è applicato al centro di massa per chiarirci immaginate che questa sia la ruota un po' prospettica fate un buco infilate un palo e magari con un, questi sono dei pezzi di metallo sagomati in modo che voi vi aggantate qua sto disegnando molto male dovete immaginare prospetticamente questa cosa in cui avete una struttura così e voi trainate ho dimenticato i miei bastoni quando mi servono non ce li ho ecco qua, guardate così, ok? state tirando così chiaro? state trainando la ruota così e ho dimenticato i miei bastoni vabbè quanto questo comunque non rotolava granché bene dai qualcosa fa ci siamo capiti? spero in questo caso invece voi applicate una coppia questo è più come avviene in un motore quindi immaginate un sogno avere tipo una cosa così e in questo punto applicate una forza e in questo punto applicate una forza applicate una coppia applicate una coppia magari un disegno così diventa ancora più provocatorio shhh se io applico una forza così magari immaginate tipo un pedale è una forza uguale e contraria se non ci fosse la strada se questo fosse un disco in mezzo allo spazio il centro di massa dovrebbe da qualche parte? no ci sarà un moto rotazionale attorno all'asse il centro di massa ma il centro di massa non accelererebbe perchè questa forza è uguale a questa forza ho applicato un momento torcente che il centro di massa è nella nessuna parte ho applicato una coppia una coppia con 2p ok? adesso ci mettete alla strada cosa cambia? adesso per capire cosa sta succedendo questa coppia che direzione ha la coppia? la coppia è un vettore che direzione ha la coppia? entrate 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 la coppia quindi chiamate la coppia tau 0 che entra in questo esercizio entra ok? ok? adesso mettete questa ruota che c'è una coppia sulla strada questa ruota è sulla strada agguantate in questo modo e tirate con la forza cosa succede? in entrambi gli esercizi la ruota è obbligata a rotolare senza trisciare quindi un modo per cominciare a pensare è pensare alla catena pensate alla catena quindi la catena in qualche modo rappresenta la strada allora in questo esercizio non certo farò di nuovo la catena immaginate che questa sia la catena immaginate che la catena sia sul tapis roulant cioè che sia la catena faccia un giro così e questi rulli sono liberi anche loro dentati si intende in modo che la catena faccia un giro ma quelli rulli siano lubrificati ok? e immaginate che la catena abbia una massa molto piccola magari sono catene di alluminio o fibre di carbone qualcosa di molto leggero allora immaginate di tirare appunto di far passare l'asse e di tirare con una forza cosa succede alla catena? pensateci un attimo per capire cosa fa la catena allora fate di nuovo io vi suggerisco questo quando vi trovate di fronte a un esercizio cercate di non essere passivi davanti all'esercizio cercate di essere attivi mentalmente cominciate a giocare con l'esercizio a modificarlo finchè non si dipana la nebbia cominciate a capire o intuire cosa succedeva per esempio un modo per padroneggiare questo esercizio e immaginare per un attimo che la ruota dentata sia saldata la catena cosa succede se saldate? mentalmente saldatelo cosa succede se voi tirate la ruota? cosa fa la catena? segui la ruota segui la ruota no? giusto? qua cosa succede? se saldate qua cosa succede? se voi fate così e obbligate la ruota già così cosa fa la catena? ah in questa direzione no? qua cosa succede? la catena va di là si o no? è chiaro? non è chiaro pensate alla ruota saldata alla catena la ruota non sta girando è bloccato la ruota è bloccato bloccato sull'asse saldate qua anzi siccome in fondo lasciate la perda è saldata la catena perchè in fondo è il dente che lo blocca no? ma pensate alla ruota qua ho messo la saldatura e non posso sbagliare attenzione shhh dovete immaginare che questa ruota non sia più libera di girare sull'asse ok? agguantate la ruota ma bloccate in modo che la ruota non possa più essere liberamente a girare su questo bastone quindi bloccate la ruota la prendete la ruota e tirate la ruota cosa viene? la catena si muove in questa direzione no? ok? quindi dirvi che la saldatura vi ho messo fuori pista quello che sto cercando di dire è che se il dente che è infilato qui viene trascinato verso destra trascina verso destra la catena se il dente che è qui viene fatto tirare in quella direzione la catena in che direzione va? va di là no? eh? quindi cosa fa la catena? in questa situazione va di là quindi io in bianco anzi facciamo in rosso la forza qua questa è la forza rossa applicata alla ruota in bianco visto che la catena va di là visto che la catena va di là disegno sto avendo un momento di gran caldo sto surriscaldando cosa c'è? non avete mai visto la persona togliere la maglia? mamma mia! se fosse Raul Bova o Meren d'accordo non sono né uno né l'altro per fortuna e quindi non capisco mamma mia quante storie la catena va di là quindi io disegnerò in bianco una freccia che rappresenta la forza sulla catena la forza che viene dall'interazione della catena con la ruota la forza sulla catena questa qua la catena accelera in quella direzione quindi io disegno una forza bianca che rappresenta la forza sulla catena cosa dice la legge di Newton? se la forza che sta interagendo con la ruota se la catena che sta interagendo con la ruota sente questa forza la ruota sente una forza uguale o contrario dovuta all'interazione con la catena quindi disegno in rosso la forza che la ruota sente per effetto dell'interazione con la catena ed è uguale a contraria quella bianca siete d'accordo? cioè se la catena sente una forza in quella direzione allora evidentemente la ruota sente una forza che è uguale e contraria in questa e la forza dov'è? ovviamente è il punto di contatto no? quindi il rosso quella è la forza che la ruota sente per effetto dell'interazione con la catena non mi credete? pensate cosa farebbe la catena la catena accelerebbe in quella direzione giusto? quindi ovviamente questo è solo un trucco mentale principale per capire cosa succede ad una ruota su una strada dove la ruota rotola senza strisciare con la forza applicata al centro di massa c'è una forza qui e la forza in quella direzione perchè la strada sente la forza in quella direzione non mi credete? sostituite la strada con un tapis roulant e vi accorgete che tirando in modo da evitare la rotazione tirando la ruota in modo che questo dente sia bloccato saldato in quel senso per cui ho usato la parola saldato con questo dente complicato qua accelerando la ruota la catena fa così quindi questo è un trucco mentale per accettare questo disegno questo è un esempio di pensiero attivo state sostituendo il vero esercizio con qualcosa che vi fa capire o intuire cosa sta succedendo quindi questa è la forza F0 questa forza qua che nasce dall'interazione tra la ruota e la strada la chiamo F piccola passiamo a quel disegno la in questo disegno adesso il momento torcente voglio che sia entrante quindi c'è una coppia c'è una coppia il momento torcente che sta entrando su questa ruota senza la strada il centro di massa non deve dare nessuna parte ma poi ci mettete la strada fate l'esercizio mentale lo sforzo mentale di sostituire l'idea della strada con una catena con la ruota dentata come vi ho detto se voi applicate un momento torcente così la catena scappa via in questa direzione e quindi c'è una forza sulla catena che è in questa direzione quindi se c'è una forza sulla catena dall'interazione tra la catena con la ruota c'è una forza uguale e contraria che la ruota sente e la ruota quindi ha una forza che è in questa direzione è il disegno in rosso ok? ecco che in questo disegno in questi due disegni già dovresti essere in grado di cominciare a capire qualcosa per esempio chiedetevi cosa fa il centro di massa? ok? il centro di massa in questi due esercizi fa un moto rettilineo ma in entrambi gli esercizi il centro di massa è soggetto a una forza esterna che è la somma in questo caso di queste due forze esterne quella che voi state applicando tirando il bastone che passa sull'asse sulla sale della ruota la forza esterna qui è la somma di questa forza e di questa forza quindi cosa deducete? che se non ci fosse stata la strada se io guardavo questa ruota così col bastone tiravo il centro di massa di questo bastone sarebbe l'accelerazione del centro di massa cosa sarebbe stato? sarebbe stato F0 diviso M ma qua cosa deducete? subito che l'accelerazione non sarà F0 diviso M perchè? perchè la forza che sta agendo sulla ruota non è F0 è F0-F F piccolo la forza complessiva sul centro di massa non è F0 ma è più piccola di F0 perchè c'è questa forza qua e qua cosa vedete? se non c'era la strada questa ruota il centro di massa non andava da nessuna parte perchè non c'era una forza esterna ma mettendo la strada c'è questa forza rossa e quindi il centro di massa accelererà e qual è la forza che la sta facendo accelerare? quella che io chiamerò con la stessa notazione dove è il gesso rosso eccolo qua la chiamo F ok? questa forza qua che nasce questa specie di forza di reazione è una forza di reazione che nasce dall'interazione della ruota con la strada si chiama trazione in questo contesto qua si chiama trazione questo per chi ne sa di automobili c'è la coppia del motore e poi mettete il motore su una strada perchè se il motore se la vostra Ferrari nello spazio e voi pigiate l'acceleratore e la ruota dice ma la macchina non è nessuna parte ha bisogno di interagire per una strada con una strada e la forza che farà andare avanti la macchina qual è? è questa qua questa è la forza responsabile dell'accelerazione del centro di massa e quanto è? questo è lo scopo dell'esercizio calcolare F calcolare F calcolare l'accelerazione qual è l'accelerazione del centro di massa questi due esercizi eh? d'accordo? quindi per capire questo esercizio il disegno è questo questo esercizio il disegno è questo con la forza per di qua e qua ci avete un momento crocente che magari per aiutarvi a capire mettete magari una freccia così e questo rappresenta la direzione delle vostre dita quindi questo è un tau entrante quindi è un tau zero entrante ok? questa è una ruota dove c'è un momento attorcente una coppia sull'albero motore sull'albero come si chiama? l'albero che è connesso alle ruote no? l'albero motrice come si chiama bene in italiano? semiasse c'è un momento attorcente sul semiasse e la macchina accelererà se c'è una strada e quindi questa è la reazione a questa forza ok? voi spingete la strada la strada spinge a voi questo è diverso non c'è una coppia state trainando la macchina è diverso ok? però la forza che voi applicate non tutta va nell'accelerarla perché? ahimè l'accelerazione è il risultante di questo dovuta la forza risultante è il risultante di questo e questo e questo che vi rema contro quindi scriviamo l'equazione del moto prima questo esercizio qua dobbiamo decidere la direzione positiva scrivere la direzione positiva ci viene naturale chiamare questa la direzione positiva prima l'equazione del moto del centro di massa la legge di Newton del moto del centro di massa cos'è? la massa del corpo l'accelerazione del centro di massa è uguale alla somma vettoriale delle forze esterne che agiscono sul sistema indipendentemente dal fatto che sono applicate in punti diversi questa forza esterna è applicata qua questa forza esterna che viene dall'interazione con la strada è applicata qua ma la legge di Newton dice che questo è uguale a F esterno vi ricordate? quindi vi scrivo col segno algebrico che nasce dall'aver deciso che questa direzione è positiva chi è positivo? questo è positivo lo chiamo F0 questo è F piccolo quindi ho F0 meno F piccolo poi ho l'equazione del moto di Newton per il moto rotazionale per la ruota attorno all'asse passante per il centro di massa il moto cosa fai? il centro di massa e cosa fai il sistema attorno al centro di massa? attorno al centro di massa scrivo I θ due punti uguale al momento torcente adesso prima di scriverlo devo chiedermi qual è la direzione positiva perché questa qua è un'equazione che è perpendicolare alla lavagna questa è un'equazione che è di là questa è un'equazione che invece è perpendicolare alla lavagna perché θ è il parametro è la coordinata posizionale di tipo rotazionale misura l'angolo attorno a un'asse che è perpendicolare alla lavagna quindi il Tau che scrivo qua è perpendicolare alla lavagna ma entra o esce? se entrerà o escirà dovrò assegnare un segno più o meno ma qual è la direzione positiva? beh non è più libera perché mi sono già impegnato a dire che la direzione positiva di traslazione era questa quindi qual è la direzione positiva per il movimento rotatorio? eh? cosa sarà? entrante ok? perché adesso ripeto questo è un esercizio su due esercizi dove il moto è una ruota che rotola senza strisciare quindi se il centro di massa va di là allora il rotolamento è così perché è così? perché la ruota rotola senza strisciare è l'ipotesi dell'esercizio cazzo quindi questa è la direzione di rotolamento quindi il mio pollice mi dà la direzione positiva per quello che concerne questa equazione qui e qual è? visto che l'asse passa per di qua è ovvio che sceglierò come il punto rispetto al quale calcolare i momenti torcenti l'origine è il centro della ruota e qual è? ci sono due forze esterne c'è questa e c'è questa ma questa passa proprio per il centro e quindi non ha un momento torcente invece questo ce l'ha e che segno algebrico ha il momento torcente creato da questa forza? è positivo quindi scrivo uguale più rf più d'accordo? completo questo invece di impostare subito quello come ho fatto con l'altro gruppo l'altro gruppo ho fatto quasi simultaneo allora attenzione facciamo le manipolazioni che abbiamo già fatto siccome la ruota ha rotolato senza strisciare questo qui cos'è? questo è A diviso R se la ruota scivolasse allora non ci sarebbe stato un legame tra la velocità angolare e la velocità di progressione invece sto immaginando che questo punto il punto di contatto sia istanzialmente fermo e quindi avete la discussione che abbiamo fatto stamattina tra le 10 e le 11 chiaro? quindi l'ipotesi di questo esercizio è che la ruota ha rotolato senza strisciare quindi l'accelerazione angolare è legata all'accelerazione del centro di massa proprio in questa formula sono legate insieme questo lo riscrivo pure nel solito modo scriverò il momento di inerzia rispetto al centro di massa si intende che l'asse attorno al quale sta avvenendo il rotolamento è quest'asse che passa per il centro sempre la ruota si muove ma l'asse del rotolamento è sempre agganciato al ruota passa per il centro qual è il momento di inerzia? la scriveremo come K la massa della ruota per il raggio al quadrato dove K sarà il numero che sarà a seconda di come è fatta la ruota la ruota di bicicletta è una ruota piena quindi questo è uguale a RF questa equazione una cosa che si può fare è moltiplicare tutto per R quindi ho KMR quadro per A uguale a R quadro F e vedete che il contenuto matematico di questa equazione si riduce a dire che KMA è uguale F KMA è uguale F ok? posso cancellare qua così lo avvicino? anzi lo scrivo sopra va KMA uguale F quindi questo è il mio sistema due accognite quali sono A e F ok? di nuovo la A è la più semplice ad ottoniere e si fa per esempio sommandole assieme e vedete che a destra avete la cancellazione a 2 e 2 e a sinistra avete che avete la A e la M sono in comune quindi avete 1 più K per la MA in comune uguale F0 e quindi vedete che A è uguale a F0 la forza che state applicando diviso M ma diviso 1 più K F0 e vedete quindi che la forza questa qua questa qua che nasce dall'interazione della ruota con la strada quindi quella è la forza che la ruota sente per effetto dell'interazione con la strada è uguale a M A K quindi questo semplicemente vedete che questa M cancellerà questa M e quindi avete K diviso 1 più K F0 D'accordo? Guardate queste due formule e meditateci un attimo Io partirei da questo, questo è interessante questo dice che una ruota ideale che è rotta la stessa strisciare nel momento in cui voi cessate di trainarlo sparisce la forza P con F e quindi cosa significa? Nel momento in cui fate sparire questa forza qua sparisce questo e cosa vuol dire? Che la ruota rotola senza strisciare per sempre non si ferma mai è una ruota vera fatta d'acciaio cioè poco deformabile su un binario, su una strada di acciaio poco deformabile e si comporta abbastanza bene così perché poi se voi prendete un vagone ferroviario di quelli di merci e gli date una spinta quello rotola e va avanti prima di fermarsi, ce ne vuole la velocità cambia gradualmente ma rotola e cammina con una velocità che cala ma molto lentamente se invece voi siete su una strada anzi vi chiedo di fare questo esperimento probabilmente lo immaginate con la vostra testa se siete su un rettilineo la strada è piatta l'asfalto è buono non ci sono buche e altre schifezze il vento non c'è non c'è vento andate in rettilineo tenete, non so, 50 km all'ora poi premete il pedale della frizione cosa succede? siete in folle la macchina cammina ok? adesso fate lo stesso esperimento sgonfiando le gomme cosa succede? vi fermerete molto prima infatti uno dei motivi per cui vi dicono che dovreste andare con le gomme gofie perché con le gomme sgonfie voi consumate più benzina no? se volete diminuire i consumi della macchina una delle cose che dovete fare e essere sicuri che le gomme siano gofie come dice il costruttore a gomme sgonfie ok? quindi immaginatevi non avere gomme di gomma e non avere una strada d'asfalto ma una strada d'acciaio e gomme d'acciaio andrà molto più lontano inizialmente a 50 km prima che si fermi andrà a superare molto di più la macchina con le gomme di gomma e la strada d'asfalto ok? quindi per una ruota ideale che è il rotolo senza strisciare questa forza qua sparisce nel momento in cui sparisce questo se voi smettete di trainare questo sparisce vedete che f è proporzionale a f0 se questo va a 0 e questo va a 0 se questo va a 0 e questo va a 0 cosa fa il centro di massa? il motto del centro di massa è f0-f piccolo se questo è 0 e questo è 0 non c'è accelerazione e quindi quello cammina alla velocità che gli avete dato all'inizio questa è una ruota ideale una ruota vera non fa così perché? perché la ruota vera si deforma la strada si deforma e in queste deformazioni un sacco di energia viene persa infatti le ruote si scaldano ok? notate che questa forza qua che appare nella misura in cui voi trainate dipende da come è fatta la ruota giusto? guardate come l'accelerazione che è riuscita a impartire dipende ovviamente dalla massa della ruota ma dipende anche da come è fatta la ruota la forza non è f0 l'accelerazione non è f0 diviso m questo è quello che uno penserebbe ingenuamente no? se voi avete un blocco di massa m e la trainate con una forza f0 su una strada liscia senza trito qual è l'accelerazione? f0 diviso m ma la ruota non accelera f0 diviso m ma non vi dovete stupire perché guardate la forza che c'è sul centro di massa non è solo questa c'è anche questa è puntata direzione opposta quindi la forza netta sul centro di massa è inferiore a f0 quindi non vi dovete stupire che l'accelerazione non sia f0 diviso m ma quanto vale? beh, c'è questo l'effetto della ruota di come è fatta la ruota vedete qua ok? proviamo a fare questa qual è l'accelerazione del centro di massa? legge di moto di Newton del centro di massa m per a uguale la forza esterna c'è una forza esterna? certo! è la freccia rossa e va verso destra perché va verso destra? perché la catena scappa verso sinistra ecco perché va verso destra e voi scrivete m a uguale cosa? allora di nuovo la direzione positiva sia questa qua questa è la direzione positiva ok? quindi la direzione positiva è che questo lo scriverò con il segno più f shh adesso dovete scrivere l'equazione del moto del sistema attorno al centro di massa quindi di nuovo icm il momento inersi aspetto al centro di massa l'accelerazione è angolare più i tau ok? cioè uguale ai tau ma i tau ce ne sono due no? ce ne sono due c'è quello della coppia del motore vogliamo dire no? tau zero e c'è quello che nasce da questo perché questo è applicato qua e quindi c'è un momento attorcente rispetto allo zero ok? lo facciamo coincidere con il centro di massa eh? ma dov'è? devono scrivere con il segno ageppico corretto allora se la direzione positiva traslazionale è questa il moto rotazionale acquisisce un segno positivo e ovviamente è l'entrante quindi tau zero entrerà con il segno più e scrivo qua tau zero con il segno più invece il momento attorcente di questo è uscente quindi il momento attorcente di lui lo scriverò con un segno meno vedete che il succo di questi esercizi come ho già detto ripetutamente con l'atwood eccetera è capire questa storia di segni è tutto là da difficoltà di nuovo questa equazione la scriviamo così KmR quadro che è il momento di inerzia rispetto ad un asse passato dal centro di massa di una ruota con una distribuzione di massa distribuita descritta da questo numerino K questa la scriviamo come A diviso R perchè la scriviamo come A diviso R? perchè l'ipotesi è la ruota a ruota l'assenza strisciale quindi questo è il modo matematico per imporre quella ipotesi e questo è uguale a tau zero meno RF cosa possiamo fare qua? moltiplichiamo tutto per R lo stesso e poi dividiamo per R quadro oppure potevo dividere per R qua come la stessa cosa dividere per R o... quindi io voglio scrivere in questo settore lo posso scrivere facciamo così semplicemente divido tutto per R divido questa equazione per R quindi lo divido per un altro R quindi ho un R quadro che si mangia questo qui divido per R che va via questo e qua appare un R quindi le equazioni le scrivo qua sono MA uguale F e KMA uguale tau zero diviso R meno F ok? d'accordo? ho riscritto la seconda equazione cioè l'equazione del modo attorno al centro di massa in modo da avere un'equazione che ha le stesse dimensioni dell'altra quindi due equazioni, due incognite la A è la più semplice si ottiene semplicemente facendo la somma quindi vedete di nuovo MA in comune quindi ho 1 più K per M per A uguale a cancellazione tau zero diviso R quindi una delle equazioni è che l'accelerazione è uguale a tau zero diviso R M1 più K giusto? quindi l'ho diviso per M e l'altra è F no? ed F ce l'ho dalla prima e vedete che M per A questa M abbazzerà quello quindi è questa senza Dambaradan quindi vedete per l'appunto che questo qui se lo scrivo così se lo scrivo così ufff, va bene faccelo vedere e questa roba qua è proprio F quindi scrivo la A è uguale a F piccolo diviso M che è quello che uso aspetta no? qual è l'accelerazione di sto cazzo di ruota? è la forza esterna diviso la massa la forza esterna è F piccolo e di nuovo guardate la formula cosa mi sta dicendo? guardate questa forza qui la trazione questa si chiama trazione vedete? questa si chiama trazione in inglese traction la trazione sparisce non appena la coppia sparisce la trazione non la trazione la trazione quando tau è 0 questo sparisce ma se tau sparisce se azzerate tau se azzera F si azzererà l'accelerazione giusto? quindi voi avete l'accelerazione finché c'è la coppia del motore una volta che voi pregettizzate la frizione e non c'è più la coppia del motore la ruota va a velocità costante perché viene a mancare la F piccola che è la forza esterna che l'avrebbe fatta accelerare giusto? notate come l'accelerazione dipende dalla massa ovviamente più massiccia è alla ruota più difficile fanno accelerare dipende da come è fatta la ruota ma dipende anche dal raggio della ruota quindi se voi volete avere una grande accelerazione cosa vi conviene fare? a parità di massa e a parità di K avere un piccolo raggio giusto? chi di voi riconosce nella pratica o se siete appassionati di automobili chi riconosce le cose che legge in queste formule? eh? a parità di massa a parità di ruota a parità di tipo di ruota cosa dovete fare per avere una grande accelerazione? dovete avere una grande coppia quindi le macchie che non hanno una grande coppia avranno una piccola trazione no? una piccola trazione quindi la forza responsabile della accelerazione è piccola credo che siamo arrivati a meno 10 grazie